Grazie a tutti Grazie a tutti Massimo Morini Guarda qui Mappamondo vuole entrare Bravissimi Sono due bravissimi cantanti Luca e Paolo Ma cosa fanno? Tu ci devi ridare i soldi Massimo Morini Perché tu ci devi un sacco di soldi Allora prossima volta che facciamo i 100 secondi Chiudiamo la porta per cortesia Facci i soldi Ma non è vero Ho dato tutto Manca l'ultima rata Ti seguiamo le gambe Massimo Morini E va bene Diciamo che la folla si sta raggruppando E direi che è il caso di chiudere i 100 secondi Stasera comincia il feste Stasera Basta Grazie a tutti.